Su ANA stiamo certamente chiudendo il dossier, siamo passati alla gestione nazionale e penso che ANA sia uno dei volani più importanti dell'economia italiana perché diventerà e tornerà anzi ad essere e a fare il proprio mestiere, cose che purtroppo negli ultimi anni non ha fatto. Ma quindi per la settimana? Ho imparato a non rispondere più a delle domande su dei tempi precisi, ci stiamo lavorando, ci sono tantissimi dossier che stiamo lavorando contemporaneamente. ANA per me è una priorità assoluta perché tornerà a gestire, a costruire, a progettare le strade e a farlo bene. Anche lì ovviamente ci vuole un po' di tempo, non c'è la bacchetta magica, ma persone giuste al posto giusto fanno un grande cambiamento.